Bene, dopo questo richiamo che è partito dal tema del giardino storico come bene prezioso, la riflessione a quello che torniamo un po' all'inizio, cioè a questa Italia che diventa sempre di più meta di un turismo, sia locale che estero e qui un richiamo quindi un po' anche al ruolo del Touring Club italiano che in qualche modo in questi anni. Grazie, mentre magari i tecnici possono mettere mano a questo aggeggio, volevo tanto dire che il Touring Club è da 120 anni un presidio del nostro territorio, ha fatto del viaggio un po' la metafora, anche il paradigma di conoscenza, di curiosità per mantenere viva la qualità del nostro territorio e ritengo che oggi in qualche modo sia un punto di riferimento anche per la fruibilità di questo territorio. Dopo 120 anni si è ricordato che la capitale d'Italia è Roma, è aperto una sede nazionale a Roma di cui io sono il presidente e uno dei primi atti è stata l'apertura ai cittadini del Quirinale, non come museo o ulteriore museo romano ma come istituzione, quindi nel raccordo fra cittadini e istituzione, perché il Touring ha circa 3.000 volontari che ogni giorno aprono in tutta Italia decine di posti per la visita, posti che sarebbero chiusi e che fanno con grande abnegazione. Ma io qui mi vorrei riferire all'occasione di questi Stati Generali, cioè alla legge 10, questo nome 10 noi urbanisti ci ricorda la legge Bucalossi che tutto sommato è stata una svolta, io penso che anche questa legge 10 possa essere una grande svolta per il nostro Paese. Io non vi devo convincere sul fatto che il verde è importante, che la biodiversità è importante, cioè ne siamo tutti convinti. Vorrei fare invece un ragionamento insieme a voi sul senso che ha questa legge, perché questo provvedimento così ben fatto ci sollecita allo sviluppo del verde urbano. E quindi non è semplicemente la realizzazione di nuovi spazi urbani, ma anche del senso da dare al verde urbano oggi. E quindi io vorrei concentrarmi in poche battute, però vedendo delle immagini, proprio a questa necessità, forse sono uno degli ultimi a parlare, quindi anche Stati Generali vuol dire anche che programma ci diamo. Certamente la denuncia è giusta, certamente anche la lamentela talvolta è giusta, però noi dobbiamo partire da una... Intanto vediamo se riusciamo a partire. Ecco, cioè mi pare che anche nei discorsi che qui abbiamo fatto abbiamo centrato il tema della presenza storica. Abbiamo ragionato se queste professionalità sono rimaste. Ci vorrebbe un po' di cultura giapponese. Voi sapete che i giapponesi non conservano i monumenti, ma conservano gli strumenti e le professionalità per rifarli. Per cui le pagode vengono abbattute, ricostruite ogni 50-70 anni, in modo che si conservi la cultura che ha generato quel patrimonio. Noi possiamo dire che a me sembra importante, cosa vorrei riprendere dalla storia del verde urbano? Vorrei riprendere questa immagine che mi è capitata... Qui siamo a San Quirico d'Orcia, nelle crete senesi. Questo, magari tutti lo conoscerete, sono gli orti leonini, cioè quel giardino che nel 1578, a seguito della sconfitta di Siena e la ricostruzione delle mura di San Quirico d'Orcia fu di Omede Leoni costruì e che poi solo nel 1975 è diventato uno spazio pubblico che il comune lo ha preso. Ora, è chiaro che questa immagine ci fa vedere con chiarezza il rapporto fra il verde urbano e il costruito. E io credo che, a parte la bellezza del progetto del giardino, è questo rapporto che dà il senso all'operazione che si vuole fare. Il rapporto, cioè, fra uno spazio verde e uno spazio costruito. Ma c'è un altro aspetto molto importante, perché il verde, l'abbiamo detto, si diceva anche adesso, il paesaggio ha una storia legata all'antropizzazione e ha anche una sua capacità di donarci delle emozioni che si capisce vengono da quasi un modo quasi spontaneo di realizzare. No, perché questa è una bellissima immagine, però dal mio albergo di San Giovanni d'Asso ho fotografato questa strada banale, c'è anche un distributore di benzina, però ci fa capire come laddove c'è un piccolo addensamento di case c'è un'alberatura, e purtroppo qui non si vede. C'è un'alberatura, c'è del verde, c'è una cultura diffusa della necessità di alberi verde. Ma vorrei dire, in Toscana, d'accordo, andiamo un attimo in Puglia, per esempio, qui se vedete c'è un trullo, c'è uno spazio di raccordo in mezzo a tanti trulli con un verde che possiamo dire è un verde molto rurale, c'è una smart rurality di questo. Allora, tutto ciò non esaurisce il nostro ragionamento, perché, se io ho capito lo spirito del Comitato e della legge, noi dobbiamo andare anche oltre la logica della progettazione di spazi verdi, di cui parlerò in seguito, perché il tema è oggi come noi diffondiamo il verde in questa enorme quantità di costruito che esiste. Facciamo caso che poi blocchiamo le costruzioni, che tutto si riesca a fare, ma intanto noi abbiamo un problema oggi e abbiamo anche delle possibili soluzioni. e la trasformazione delle coperture e delle facciate col verde ci aiuterebbe in due modi. Uno è certamente quello di migliorare la performance del costruito in termini di sostenibilità ambientale, ma l'altro è anche... Noi ogni volta facciamo un ragionamento giustissimo, ma purtroppo deludente, lo dico sinceramente. La scuola, dobbiamo rifare le coscienze. Ma sappiamo che viviamo in una società in cui, io lo dico, noi siamo nell'età della sorpresa, in cui avvengono delle cose, dei cambiamenti che non riusciamo a controllare, molto spesso negativi, ma anche improvvisi. Allora oggi, per esempio, nessuno avrebbe scommesso una lira sul tema della sostenibilità energetica, su quanti poi... Dice, ma ci sono gli incentivi? Non c'è solo l'incentivo, io penso che ci sia anche un'attenzione. Cioè, voi avete parlato molto male dei cittadini italiani, io vorrei avere una speranza, cioè aiutiamo i cittadini italiani a migliorare. Non è che solo l'alto adige che sappiamo ha cura per quello che io qui ho chiamato, non il verde pubblico, ma il verde in pubblico. Cioè c'è anche un verde privato, che è quello, ripeto, delle facciate, che è quello delle recinzioni, che è quello dei giardinetti, che è un verde privato che però ha un senso anche alla vista di chi ci passa. Quindi io dico il verde in pubblico e il verde diffuso, che fa riferimento anche alla regia a alcuni provvedimenti di tipo fiscale e normativo. Adesso questo farà inorridire tutti, perché c'è oddio il bosco verticale. Allora, però, quando io... Non piace neanche a me, lo dico, è un caro amico il progettista, ma però quando un tassista di Milano mi dice, ma sai che noi abbiamo il grattacero più bello del mondo? Dice, qual è? Il bosco ha vinto tutti i premi di questi premi bisogna sempre vedere. Io ricordo... Beh, adesso non voglio divagare, ma insomma di come certe notizie poi diventano... Ma in ogni caso facciamo tutte le critiche o anche gli apprezzamenti che si vuole, ma ha aperto un ragionamento in questo senso, ha aperto un ragionamento sul fatto che anche l'edificato può essere più verde nel necessario. Ma d'altronde, e questo invece lo difendo, perché è un mio caro amico e anche persona che stimo moltissimo come architetto, ma d'altronde i romani ricorderanno che Renzo Piano ha coperto il parcheggio della città della musica adesso con un verde anche alberato. Adesso qui, se voi vedete la sala grande, lì c'è il cantiere, sulla destra è lo scavo del parcheggio. Se voi adesso vedete alle spalle della sala grande, adesso c'è uno spazio completamente verde e precedente al bosco verticale ha una logica di cui vi sto parlando che non naturalmente esclude i discorsi già fatti o la meravigliosa censimento degli alberi. Però il problema nostro oggi non è solo quello, il problema è in gran parte questo di cui vi sto parlando io, cioè di come rifacciamo verde, di come riprogettiamo il verde e noi abbiamo tanti esempi, chiunque va a Londra vada a vedere che cosa si sta realizzando laddove sono state fatte nel 2012 le Olimpiadi. La prima cosa che è stata fatta è stato fatto questo grandissimo parco che potrebbe io qui ho scritto essere anche un esempio per l'Expo, non se ne è parlato molto di questo, ma la prima cosa che è rimasta delle Olimpiadi, voi sapete che le Olimpiadi di Londra sono l'esempio più intelligente di come fare gli eventi, cioè per gli eventi si è fatto tutta roba smontabile, cioè mentre oggi stiamo discutendo cosa fare dell'Expo loro hanno detto cosa facciamo di questa area, facciamo un grande parco, facciamo delle attrezzature collettive, dopodiché aggiungiamo quello che serve per fare nei 40 giorni le Olimpiadi. Ma la cosa bella importante che non vorrei che voi dimenticaste è che il parco, noi siamo, anch'io sono architetto d'origine, siamo tutti professionisti, siamo appassionati, siamo docenti, ma il parco, e io sono stato nel decimo anniversario della convenzione di Firenze, ho fatto uno spiccia a Firenze, e giustamente il parco deve essere utilizzato e goduto dalle persone, perché se non c'è questo senso, poi noi andiamo nelle scuole a fare educazione, il parco deve essere e manutenzione, e gestione, e ordine, e pulizia. Oggi abbiamo un grande valore, quello della lotta alla sedentarietà. Lei mi sta guardando che sto parlando troppo, mi tolgo la parola. Lotta alla sedentarietà, sappiamo di come, molti di noi hanno in tasca il Fit Pit per vedere quanti chilometri hanno fatto, eccetera, ma quando, per esempio, c'è poco spazio, beh, questo non l'hanno fatto in Svezia, questo è il parco del Portello, che sta a Milano, al centro di una zona molto brutta di edificazione di edifici residenziali, beh, lì lo spazio ce n'era poco e Andrea Schippar, che è un grande architetto paesaggista, si è inventato una specie di torre di barbere che ha allungato di molti chilometri il possibile percorso di utilizzo. Questo è il parco, è il progetto del parco, un parco non è molto più grande degli orti leonini, però è fatto in un modo diverso, vedete, penso che poi voi siete esperti e sto dicendo delle cose che tutti voi conoscete meglio di me, però vedete che poi alla fine siamo sempre nel discorso che facevo prima, cioè il punto essenziale e centrale è che noi abbiamo che le nostre città sono periferie, l'83% di chi vive nelle grandi aree metropolitane vive in aree di periferia dove molto spesso non c'è verde, e se oggi Milano c'ha un primato anche rispetto a Roma e c'ha un punto di riferimento non è solo, sicuramente in quanto mi vado non è per l'Expo ma è per la capacità di aver lavorato in periferia, questo è Portello dove c'era la fabbrica dell'Alfa Romeo, siamo abituati a pensare all'archeologia industriale, la rigenerazione, la resilienza, ma questo è un esempio di resilienza e rigenerazione con il verde. e allora finisco dicendo che uno volevo semplicemente dire questo che la cultura del tour è una cultura del viaggio e la cultura del viaggio come sapete ha tre modalità il viaggio con i piedi cioè la scoperta delle cose, il viaggio con gli occhi che è tipico del paesaggio, il paesaggio rende visibile ciò che è invisibile cioè quello che l'ha generato e poi anche quello col cuore cioè la dimensione emotiva e la dimensione emotiva per eccellenza è che il verde non lo possiamo fermare. Grazie. Grazie grazie anche per aver citato molte cose tra cui Milano da cui io vengo citando l'Expo tutti noi a Milano in particolare siamo preoccupati del futuro di questa grande area una cosa che certamente nessuno però ci potrà togliere e questo credo sia un bel obiettivo già di per sé speriamo anche meglio ma insomma i 12.000 alberi che sull'area Expo sono stati piantati ecco questo è il lascito il primo lascito che l'Expo dà alla città in un'area sicuramente con delle problematiche precedenti molto importanti quindi questo lo dico perché come sempre vogliamo avere una visione molto ottimista ed è con ottimismo direi che guardiamo questo momento non vorrei essere stata fraintesa questo momento è un momento importantissimo se solo guardiamo e leggiamo così gli articoli che in questi giorni sono usciti su tutte le norme e i bandi che saranno pubblicati entro dicembre penso all'importante bando sulle nuove scuole con le linee guida di Renzo Piano molto interessanti che pongono all'interno di questo nuovo modello scolastico il giardino penso ai bandi per le dismissioni delle aree ferroviarie abbandonate un altro tema che per esempio a Milano già ha regalato in termini diciamo di piano non ancora realizzati però in termini di piano 500.000 metri quadri di verde penso al piano che anche questo è stato approvato delle piste ciclabili Lega Ambiente l'ha definita una ciclorivoluzione in effetti cioè un momento epocale un momento epocale quindi no io guardo con grande ottimismo questo momento tendo proprio per per queste occasioni di svolta a riportare l'attenzione diciamo su quelli che sono i percorsi per una filiera di qualità filiera di qualità nella progettazione filiera di qualità nella produzione e qui mi permetto di dire una cosa con un occhio di riguardo anche alle aziende che producono questo verde signori perché davvero l'Italia esporta le piante in tutto il mondo pensate che il settore del vivaismo esporta più del vino e più dell'olio e non lo sa nessuno non c'è pianta o esemplare nei giardini di Bacchi Campalas piuttosto che in altre città che non arrivi dall'Italia abbiamo sì qualche importante concorrente però davvero anche qui abbiamo dei primati fantastici quello che chiedo è semplicemente una presa forse di coscienza anche da parte del sapere comune delle istituzioni insomma che sappiano che esistono queste eccellenze italiane e adesso torniamo ovviamente in casa giochiamo in casa e arriviamo alla regione Lazio e quindi chiedo di intervenire come intervento conclusivo sì beh non farò le conclusioni nel senso che avete detto tantissime cose belle interessanti per cui insomma però io volevo iniziare ringraziando il comitato per lo sviluppo del verde pubblico per aver organizzato queste giornate dei stati generali del verde perché in particolare Giorgio Boldini con cui stiamo lavorando da diverso tempo insomma tutti gli altri componenti evidentemente che stanno lavorando insieme a lui perché credo che sì dobbiamo essere ottimisti diciamo perché non possiamo che essere ottimisti perché altrimenti non potremmo andare avanti ma è vero anche che siamo in un momento molto complicato e molto difficile e quindi credo che sia veramente invece importante parlare discutere far conoscere formare come è stato insomma sottolineato da tutti quanti gli interventi di questi temi e dell'importanza del verde poi in tutte le sue dal punto di vista ambientale dal punto di vista paesaggistico dal punto di vista della qualità della vita perché perché diciamo poi i fatti di questi giorni ce lo ricordano non si ha diciamo così ancora e io lo dico poi dal punto di vista delle istituzioni no? la percezione dell'importanza di questo di questo tema viene sempre ci sono sempre tante altre priorità no? ci sono sempre tante altre cose da affrontare questo diciamo anch'io insomma che come passato vengo da appunto da un'esperienza di associazione ambientalista da Lega Ambiente per cui ho tutto diciamo un percorso fatto vengo vista diciamo un consiglio regionale come quella dell'alberello no? che deve difendere l'alberello e vabbè ma non ti preoccupare ne tagliamo uno ne piantiamo altri ne piantiamo altri dieci e quindi tu stai a posto devi stare tranquillo insomma viene percepito un po' così no? e invece soprattutto in questi giorni a Roma ad esempio come il verde urbano potrebbe essere utile potrebbe funzionare come depuratore anche dell'aria noi sappiamo che in questi giorni siamo bloccati ci sono i blocchi domeniche a piedi ci sono i blocchi delle talche alterne proprio perché le centraline stanno sforando il PM10 è arrivato alle stelle per più di nove giorni ad essere arrivato hanno sforato più di due centraline per cui appunto sono stati necessari di questi blocchi allora il potere del verde i dati ci dicono che è fino al 20% di riduzione di queste polveri allora spiegare queste cose far capire queste cose è importante noi potremo agire non solo diciamo appunto bloccando le auto che nella nostra a Roma sono il 70% producono le polveri per il 70% ma anche intervenire appunto attraverso attraverso il verde così come ma magari l'avrete già sottolineato in queste giornate adesso ci stiamo avvicinando a Parigi alla Coppia 21 e quindi alla appunto alla conferenza delle parti sul clima e il verde da questo punto di vista per la mitigazione del cambiamento climatico è evidente no? che qual è la forza e l'importanza del verde e quali sono tra le azioni previste le azioni di forestazione per oltre che appunto la riduzione delle CO2 la riduzione di queste emissioni di calore delle cappe di calore che ci sono nelle città e quindi è importante parlarne e sottolineare questo aspetto proprio in queste giornate che sono poi appunto le giornate anche della festa dell'albero no? festa dell'albero e qui ritorno è un altro degli interventi e l'importanza della formazione anche per i bambini perché insomma io appunto sempre come legambiente è una delle campagne più importanti della legambiente quella della festa dell'albero e si tocca con mano l'utilità di quella campagna al bambino i bambini che piantano l'albero piuttosto che i genitori che dedicano l'albero a un bambino che nasce e lo dedicano lo piantano nel giardino dove abitano e poi il bambino storia di questi bambini che crescono e che ci dicono che ancora vanno lì e curano l'albero e lo seguono negli anni insieme alla loro insieme alla loro appunto alla loro vita e poi si parlava appunto di nuovi lavori verdi anche qui in questo momento di crisi e green jobs e questa è una fetta importante dei lavori verdi si parlava appunto prima del curatore dei parchi ma adesso veniva sottolineato l'importanza della frodo vivaistica anche nel Lazio ci sono dati importanti da questo punto di vista che nessuno magari sa secondo gli ultimi dati appunto disponibili nel Lazio la frodo vivaistica ha un fatturato di circa 200 milioni di euro l'anno che è il pari al 5% del valore della produzione agricola complessiva con 1300 aziende presenti in tutto il territorio regionale poi concentrate in particolar modo per il 90% nelle province di Roma e Latina e con 10.000 addetti occupati insomma questi sono numeri importanti e sicuramente diciamo agendo su questo settore si potrebbero ancora di più appunto sostenere migliorare perché insomma quello anche è un settore che in questi anni ha sicuramente sentito sentito la crisi e poi insomma parlavamo prima si è parlato molto anche di turismo si parlava di turismo arboreo ma quanto l'importanza poi appunto del verde delle ville storiche dei parchi perché anche qui la Regione Lazio ha anche da questo punto di vista una biodiversità molto importante un insieme di aree protette molto importante e uno studio fatto da Union Camera e dal Ministero dell'Ambiente ci dice che per gli stranieri per l'estero il motivo di turismo più che culturale più che gastronomico è per il 29% delle persone legato proprio alla natura e quindi noi abbiamo ancora molto poco insomma invece sviluppato questo filone del turismo quindi credo che appunto il compito poi delle istituzioni come la Regione Lazio sia quello di indirizzare e cercare di attuare questo tipo di politica anche per la costruzione di questo nuovo modello di sviluppo necessario che poi del quale ormai tutti parliamo ma che poi concretamente deve essere declinato e quindi questo di cui si sta parlando del verde quello di cui stiamo parlando in questi giorni credo che sia uno dei filoni appunto su cui la Regione Lazio deve investire spingere indirizzare da questo punto di vista in Regione Lazio ci sono due leggi una sostanzialmente che viene dalla legge 10 del 2013 giusto gennaio 2013 e cerca appunto di poi applicare regionalmente attuare regionalmente la legge 10 poi con Giorgio più volte ci siamo confrontati ma c'è bisogno di una legge non c'è bisogno di una legge intanto facciamo la legge ma con l'obiettivo anche poi di andare avanti insomma con delibere magari di giunta con regolamenti che possano comunque indipendentemente dalla legge poter realizzare appunto la legge la legge 10 sostanzialmente gli obiettivi di questa legge sono quello di mitigare l'emissione climanterante favorire risparmio energetico la prevenzione del rischio idrogeologico questi sono i punti centrali si prevede la realizzazione di un censimento del patrimonio del verde da parte dei comuni attivare iniziative per il rinverdimento realizzare boschi in città e favorire l'impiego del verde in edifici pubblici e privati appunto tutto quanto per contrastare l'effetto isola di calore piuttosto che si prevedono bandi del verde proprio per finanziare progettualità sostegno sviluppo del verde urbano questa è una legge che è stata depositata e che insomma ancora non ha iniziato il suo iter ma appunto vi dicevo prima il motivo di continuare a battere di spingere e far capire l'importanza ma comunque appunto l'obiettivo è anche quello di realizzarla e portarla avanti anche indipendentemente dall'approvazione della legge un'ulteriore legge credo molto importante con la quale invece abbiamo ci siamo confrontate molto insomma anche con Valè e Sofia è quella appunto sulla valorizzazione interventi valorizzazione delle dimore ville complesse architettonici parchi e giardini di valore storico e culturale della regione Lazio in particolare concentrandosi concentrandosi sui piccoli comuni e cioè è evidente insomma le città grandi importanti come Roma ville storiche il verde che hanno ma per evitare appunto di concentrare poi le azioni sempre sulle grandi città ci siamo concentrati appunto limitati sui piccoli comuni la legge ha diverse finalità diciamo in breve viene istituita una rete accreditata verso l'agenzia del turismo e i beni appartenenti alla rete ricevono un logo identificativo per promuovere appunto l'immagine culturale della regione sono previsti una serie di contributi per il restauro e il recupero e il risanamento e la manutenzione dei beni a differenza se poi la percentuale del contributo è differente se il soggetto è pubblico o privato è previsto un comitato tecnico scientifico per la predisposizione del regolamento di attuazione che coordina la rete cioè appunto questo regolamento attuativo e sono previste anche delle convenzioni con le università proprio per portare avanti questa formazione di cui si è parlato molto questa sera e sono previste inoltre anche delle start-up giovanili finanziamento di start-up giovanili un altro teme sui quali la regione Lazio sta puntando molto e quindi anche in questo campo abbiamo inserito appunto il concetto di start-up questa è una legge invece che è andata avanti abbiamo già affrontato la discussione in commissione stiamo aspettando il passaggio in commissione bilancio per il finanziamento credo insomma e concludo che siano due azioni importanti poi c'è tutto il tema anche appunto dei parchi regionali anche da quel punto di vista stiamo facendo un grosso lavoro per rilanciare la politica sui parchi visto che abbiamo trovato una situazione abbastanza disastrosa azioni importanti che possiamo portare avanti come Regione Lazio insomma questi sono due impegni ma c'è bisogno di andare avanti di essere ottimisti ma di continuare a battere perché è un tema fondamentale per tutti i motivi che insomma ci siamo detti per stasera grazie grazie allora siamo arrivati alla conclusione e abbiamo un po' sforato i tempi e so chi è collegato in streaming appunto ci richiama l'attenzione quindi io concluderei mi sembra come dire essere stato davvero un appuntamento estremamente interessante io ringrazio a questo punto il comitato per il verde urbano perché si è fatto promotore di questo incontro e magari chiedo al presidente che qui davvero un saluto finale che mi sembra doveroso grazie dottoressa cappelletti io come dire desidero soltanto diciamo aggiungere a titolo personale dei componenti del comitato il non soltanto il ringraziamento a chi è partecipato anche alla sessione di oggi pomeriggio tutti i relatori che si sono vicendati al tavolo le persone che ci stanno ascoltando da lontano le persone che sono qui in sala che attestano in qualche modo il senso dell'operazione che si voleva compiere con alcuni prima di iniziare ci siamo detti che questa operazione voleva essere un po' un lanciare un sasso nello stagno questi stati generali già dal nome tradiscono in qualche modo l'ambizione di andare oltre come diceva prima il dottor Roma e in effetti proprio questa sarebbe l'idea cercare di come dire andare fino in fondo sulle potenzialità che la legge 10 ci offre e che sono state sfruttate soltanto in parte per una serie di ragioni ma probabilmente se dovesse indicarne una fra tutte per il fatto che su questo tema vedo o perlomeno è stata la mia personale impressione ma condivisa da molti colleghi vedo molta dispersione di forze e poco quel fare rete che secondo me è il primo ingrediente per riuscire a fare questo salto di qualità se questo sasso lanciato nello stagno in qualche modo riesce a fare dei cerchi concentrici che vanno più lontano possibile e come dire inizia un lavoro che ci consente e ci aiuta a costruire una rete la rete è fatta di tanti nodi e questi nodi diciamo se interagiscono costantemente tra loro possono rappresentare davvero un fattore di spinta decisivo io credo che l'obiettivo principale era mescolare linguaggi culture contaminarci a vicenda qui ci sono rappresentate un po' tutte le categorie io faccio il magistrato nella vita faccio il pubblico ministero quindi una cosa lontanissima per certi versi almeno da molte delle cose che abbiamo ascoltato oggi però insomma ho rubato a ciascuno di voi qualcosa anche a coloro che ho ascoltato stamattina e ieri e spero a mia volta di farmi rubare qualcosa quando come dire prendo la parola ma insieme ai colleghi ci occupiamo di vicende che come è stato ricordato vanno da quelle più strettamente legate all'operatività dei tecnici di settore fino ad arrivare alla vicenda di mafia capitale io non posso che davvero ringraziare tutti quanti a ciascuno di voi cercheremo di rubare il più possibile grazie grazie direi che abbiamo concluso e grazie ancora a tutti grazie a tutti grazie a tutti